Le ultime ore di una storia d'amore Chi si crede di essere? Ha un bel coraggio a venire qui Perché Henry Peek? Perché questa messa in scena? Ho bisogno di lei per risolvere l'indagine Sarà un po' il mio dottor Watson E perché è lei Sherlock Holmes? Perché è la mia indagine Se riuscissimo a trovare una sua lettera, una cartolina Ho un sacco di sue lettere, me le ricordavo scritte meglio Neanche la lista della spesa di Proust sarà un granché Hanno trovato la lista della spesa di Proust ed è un capolavoro Guardi qui Henry Peek si è portato il segreto nella tomba, lo accetti La smetta di importunare mia figlia No, la smetta lei di minacciarmi con quella sua vanga No, è una zappa Ho perso quasi tutto per quel manoscritto Lei sta sconvolgendo le nostre vite È questo libro che le sta sconvolgendo Lei non crede, Josephine? Quindi sa dove abita? Eh sì E allora dove abita? Abita nell'ultima casa all'altezza Dove? Dove? L'ultima? Infermiera? Abbiamo un problema Ciao stagionistra! Ciao stagionistra! Grazie a tutti.